Ben trovati all'appuntamento con dentro il consiglio, il nostro settimanale che ci porta all'interno del consiglio regionale della Toscana. Dalla recente aula abbiamo estrapolato un tema, sono stati due giorni di dibattito, comunque ecco i titoli. Parleremo dei due giorni del consiglio regionale che condivide integralmente la relazione di maggioranza sui lavori della commissione di inchiesta sulle infiltrazioni mafiose e criminalità organizzata in Toscana. E poi invece come secondo tema parliamo di musica del Jazz Summer Festival che fino al 2 agosto si svolgerà a Empoli. Il primo tema quindi corposo perché avremo commento di molti consiglieri regionali perché sono stati dati gli aggiornamenti sulle bonifiche dei siti interessati dalla vicenda Cheo. È stato chiesto anche di potenziare le strutture di supporto alle commissioni consigliari garantite ad ARPAT delle risorse finanziarie. Questi sono quindi alcuni strumenti antimafie che il consiglio regionale della Toscana ha fissato dopo due giorni di dibattito, come abbiamo detto, con impegni affidati oltretutto a tre ordini del giorno. È risultato questo della discussione sulle relazioni finali della commissione di inchiesta sui infiltrazioni mafiose e criminalità organizzata in Toscana, fra cui l'inchiesta sulle infiltrazioni di imprese riportabili all'Andrangheta e sul presunto coinvolgimento di ambienti della politica nello smaltimento degli scarti chimici delle concerie. L'Aula del Palazzo del Pegaso ha approvato quindi la proposta di risoluzione collegata alle relazioni finali di maggioranza e tre dei quattro ordini del giorno presentati dai gruppi di opposizione. Una relazione che non ha trovato un consenso unanime, con due punti di vista differenti, però un lavoro buono fatto dai colleghi della commissione di inchiesta che di fatto in questo periodo hanno lavorato in maniera molto attenta. C'è un tema delicato che emerge dalla discussione, quella delle infiltrazioni mafiose che ci sono ovviamente in Toscana con il resto d'Italia e serve per contrastarle una politica che sia forte. Quindi bene che il Consiglio regionale abbia affrontato questa questione, che abbia approfondito, che abbia reso trasparente l'operato della nostra regione e nel rendere trasparente l'operato della nostra regione ci ha ammesso, è ammesso, nelle condizioni tutti i consiglieri, di approfondire nei dettagli quello che è stata una questione molto importante, quella del Cheu e non soltanto quello che può essere in tutte le questioni che riguardano gli appalti pubblici, soprattutto se pensiamo che arriveranno tante risorse rispetto al PNRR, è opportuno e doveroso dotarsi di anticorpi che consentano alle pubbliche amministrazioni di lavorare con tranquillità e alle aziende sane di poter lavorare nel massimo della trasparenza nella nostra regione. Il segnale è che la regione deve impegnarsi per mettere in atto tutto quello che serve per dare garanzia agli imprenditori di avere un sistema legislativo, normativo, autorizzativo che li possa garantire da eventuali potenzialità di infiltrazioni da parte della criminalità organizzata. Non siamo d'accordo sul Cheu, non perché non è successo. È successo ma non spetta al Consiglio regionale andare a inserirsi in un'indagine di una magistratura. Noi dobbiamo solo verificare che le regole che abbiamo dettato consentano di essere tanto difficile penetrare in Toscana. Il Cheu è una cosa che certo lo comprendiamo che la minoranza ha dovuto provare a rimettere all'ordine del giorno l'idea che emendamento Cheu, colletti bianchi, politici, dirigenti e funzionari di questa regione fossero la stessa cosa. Non è così. Il Cheu è partito l'indagine 2017 e l'emendamento 2020 mai applicato. Questa è la nostra risposta. Ancora diverse domande senza risposta però ho voluto guardare avanti e quindi ho voluto proporre una serie di attività, una serie di interventi dal punto di vista amministrativo per cercare di evitare che tutto ciò si possa ripetere. All'interno dei nostri ordini del giorno chiediamo il potenziamento di ARPAT, chiediamo una commissione che è già la commissione esistente di garanzia e controllo che possa occuparsi anche del tema della legalità, chiediamo il potenziamento del fondo anti-usura, chiediamo poi che quando si presentano emendamenti in consiglio regionale soprattutto su tematiche delicate come quella dei rifiuti ci siano i tecnici della regione a garantire la procedura della presentazione dell'emendamento e ciò che sta scritto al suo interno e poi chiediamo che nel momento in cui ci siano delle impugnative di fronte del governo su una serie di leggi votate dal consiglio regionale che sia lo stesso consiglio regionale a decidere se impugnare oppure no tale legge perché c'è stato detto che l'impugnativa è un atto dovuto in verità lo abbiamo visto e la maggioranza ce l'ha dimostrato diverse volte che ciò non è così e quando si può una legge si corregge. Il primo tema è quello dello strumento la commissione di indagine può essere richiesta soprattutto dalle opposizioni ma in realtà ha pochissimi poteri istruttori e coercitivi nei confronti di soggetti che possono anche rifiutarsi di venire pur invitati. Questo è successo complice anche il fatto che questa commissione si è svolta durante le indagini che praticamente non sembrano non finire mai quindi siamo anche curiosi di capire se quali sviluppi ci saranno rispetto alle posizioni soprattutto di coloro che svolgevano e svolgono ancora una funzione pubblica sia politica che tecnica. Il secondo elemento poi sta invece nell'atteggiamento che la giunta e una parte degli uffici hanno avuto durante lo svolgimento delle audizioni e dei lavori della commissione tante volte abbiamo letto sui giornali il giorno stesso della convocazione anticipazioni o spunti che la giunta per esempio anziché venire a condividere con la commissione in realtà rendeva pubbliche. Terzo c'è stata una divaricazione pericolosissima di cui ancora non si conoscono gli effetti fra ARPAT e struttura tecnica della regione. ARPAT riteneva fondamentalmente che i consorsi che sono coinvolti in questa vicenda non fossero responsabili, gli uffici tecnici dei servizi pubblici hanno invece fatto un decreto che la commissione ha scoperto per caso in cui rimetteva nel novero anche dei responsabili tenuti alle bonifiche anche i consorsi dei conciatori e questo chiaramente ha necessitato un ulteriore prolungamento dei lavori della commissione e una valutazione non esattamente linea fra maggioranza e minoranza. Infine c'è la vicenda clamorosa dell'emendamento letto al volo da Gianni, quello in cui si è assistito alle polemiche incredibili fra l'attuale presidente e l'ex governatore Rossi, il quale quest'ultimo è venuto a raccontarci che ben otto mesi prima di andare in consiglio regionale con quel famoso emendamento aveva detto al consigliere Pieroni che appunto quella norma così scritta era, scusate il termine, una cazzata. In realtà il Partito Democratico è andato avanti e quell'emendamento ha generato poi tutto quello che è successo dopo. Una vicenda incredibile e fa luce anche su tanti aspetti delle possibili infiltrazioni delle associazioni mafiose all'interno della Toscana soprattutto ma non solo legate al mondo dei rifiuti e più in generale dello smaltimento dei reflui industriali. E questo è un tema, il vero tema serio è che la regione toscana è in ritardo su tutto e naturalmente la mafia e le associazioni criminali si vanno a inserire laddove chiaramente le norme non ci sono o sono costruite male. Cesare Beccaria oltre 250 anni fa diceva che il più sicuro sistema per prevenire i delitti ed è anche il più difficile è la cultura della legalità. Ecco perché anche oggi nella discussione in questi due giorni in consiglio regionale sulle infiltrazioni mafiose e sul cheo abbiamo puntato come Forza Italia al sistema della legalità, alla prevenzione, ai percorsi all'interno delle scuole, all'educazione, ai ragazzi, alla legalità perché le criminalità organizzate, le infiltrazioni mafiosi si combattono prima ancora che con la repressione o con il codice penale con la cultura della legalità. È anche vera un'altra cosa, ci dispiace che il Partito Democratico non abbia condiviso con noi, con le opposizioni, il ringraziamento va alla Presidente Meini e al collega Capecchi che in commissione di inchiesta sulle infiltrazioni mafiosi e sul cheo hanno fatto un lavoro straordinario. La domanda vera è perché il Partito Democratico ha scelto di non condividere la relazione con le opposizioni, perché il Partito Democratico ha scelto di presentare una propria relazione e non ha condiviso le soluzioni che sono all'interno della relazione presentata dalle opposizioni. Ci rimangono ancora tanti dubbi sull'inchiesta cheo, sull'inchiesta delle infiltrazioni mafiosi. Certo è che un elemento del rimente di questa inchiesta sono le dichiarazioni del Presidente Rossi. Quando ci dice testuali parole allegate alla relazione che dell'emendamento cheo si sapeva ormai da mesi, che lui era contrario, allora la domanda è perché il Partito Democratico ha presentato quell'emendamento. Ecco, noi continueremo a chiedere ancora verità, continueremo ancora a chiedere giustizia per quei territori che sono stati vittime del cheo sulle strade, per quei territori che hanno visto gli sversamenti in maniera inopportuna, inappropriata e anche in maniera illegale del cheo sui territori. Chiederemo ancora bonifiche, chiederemo giustizia, chiederemo verità. Continueremo con la nostra azione, lo abbiamo fatto come Forza Italia in questi due giorni, partendo sempre da quello che è stato il nostro faro e il presupposto. Per noi sono tutti innocenti fino al terzo grado di giudizio, non abbiamo certo fatto una battaglia in Consiglio regionale con le intercettazioni telefoniche, usando le intercettazioni telefoniche, ma siamo rimasti ai fatti. Partendo dai fatti abbiamo fatto la nostra analisi, partendo dai fatti abbiamo tirato le nostre conclusioni, partendo dai fatti chiederemo di continuare ancora, soprattutto su due filoni. Il primo è bonificare finalmente i siti che sono ancora oggi inquinati, il secondo è continuare nella ricerca della verità che per noi rimane un presupposto essenziale. È stato impossibile arrivare alla definizione di una relazione comune perché a quello che sembrava la maggioranza aveva visto, aveva letto dai fatti che si sono succeduti nel corso di quest'ultimo anno una visione tutta propria che era impossibile da condividere e soprattutto che non sarebbe stata e credo che non sia accettabile anche da parte di quei tutti i cittadini che non più tardi di pochi giorni fa si sono sentiti dire che le bonifiche alle aree inquinate dal Cheu saranno difficili e in alcuni casi impossibili. La relazione che abbiamo presentato come opposizione si è tenuta il più lontano possibile nel rispetto di tutte le persone coinvolte dalla questione giudiziaria, ma non ha potuto fare a meno di un giudizio politico molto severo che è stato poi il medesimo che Rosi Bindi, certamente non una persona qualunque nel panorama politico, ha espresso nei confronti della politica, che troppo spesso si autoassolve ed è velocissima nel cercare delle giustificazioni e delle coperture anche alle sue azioni che vengono pubblicamente considerate veramente nemiche di quello che è l'onore e la disciplina che ci dovrebbero caratterizzare. Questo credo che sia il messaggio principale che è emerso da questa commissione che purtroppo non potrà dare altre risposte per dei comportamenti da parte della Giunta che non sono stati collaborativi. Spesso anticipava delle proposte che noi formulavamo all'interno delle commissioni secretate, di cui comunque loro però evidentemente avevano accesso. C'è stata poca disponibilità ad accogliere istanze che già negli anni scorsi con la commissione d'inchiesta su rifiuti e discariche il Movimento 5 Stelle aveva presentato e anche le associazioni in difesa della legalità avevano più volte presentato. Tutto questo denota un atteggiamento come, ripeto, autoassolutorio da parte di questa maggioranza che dalla nascita della Regione governa, un atteggiamento di scarsa anche responsabilità nei confronti di quella commistione tra pubblico e privato che ci ha portato a una situazione che purtroppo ha danneggiato non soltanto le istituzioni ma i cittadini, le aziende, una situazione in cui non sembra di vedere un'inversione di marcia proprio perché appunto non appare una mancata consapevolezza e un tentativo di correre ai ripari e di insabbiare la questione piuttosto che analizzarle e fare un bagno di umiltà nei confronti anche delle proprie responsabilità. Cambiamo decisamente argomento e parliamo di musica, l'estate musicale di Empoli che si fregia anche di avere degli ospiti internazionali di jazz nell'Empoli Jazz Summer Festival. La manifestazione è arrivata alla sua 14esima edizione che porterà nel giardino del Torrione Santa Brigita di Empoli, come dicevamo, musicisti di spicco del panorama gestistico e promesse anche delle nuove generazioni. Quattro serate, un evento culturale di livello nazionale, fiore all'occhiello, come detto, della stagione estiva di Empoli. Siamo molto felici come presidenza del Consiglio regionale di ospitare la presentazione di questo festival per due motivi. Il primo perché è una tradizione musicale di alto livello, un evento che da molti anni si tiene ad Empoli e che caratterizza anche l'offerta culturale e turistica di quel territorio, per cui molto prezioso e importante. Il secondo perché torniamo in presenza dopo gli anni della pandemia, purtroppo ancora non ne siamo fuori, quindi bene utilizzare le mascherine, usare tutte le accortezze, però riappropriamoci anche dei nostri spazi pubblici, degli eventi culturali che tornano anche a farci respirare la capacità, la possibilità di stare insieme, di vivere i nostri spazi comuni e di tornare davvero ad essere comunità. Empoli Jazz ormai è da 14 anni per Empoli una realtà strutturata che riesce a organizzare eventi di livello anche nazionale e quindi siamo davvero contenti che Empoli Jazz insieme ovviamente all'amministrazione comunale di Empoli abbia potuto rilanciare anche questa stagione estiva del Jazz che richiama sempre tante persone perché poi quando l'offerta culturale la realizziamo la gente risponde in genere con grande forza. Inizieremo il 18 di luglio che è un lunedì con Alfredo Rodriguez, questo pianista cubano che ormai è il leader del Jazz latino e sicuramente sarà uno spettacolo imperdibile. Poi proseguiremo il 26 di luglio con un doppio concerto con Totem di Ferdinando Romano che è un giovane perché noi ogni volta nella programmazione diamo spazio ai giovani e poi chi ha vinto appunto il progetto Nuova Generazione Jazz e poi proseguiremo con il nuovo progetto di Roberto Gatto X Overseas con i suoi ospiti stranieri e ormai diciamo Roberto Gatto è sicuramente uno dei più grandi jazzisti a livello internazionale. Proseguiremo poi il 2 di agosto con un omaggio a Mingus perché quest'anno è il centenario della nascita e ci sarà è stata messa su da Empoli Jazz un ensemble per l'occasione dove appunto ripercorreremo prima la vita e poi le musiche di questo di questo diciamo di uno dei maestri del jazz mondiale. E questo è anche l'ultimo argomento affrontato in questo nostro appuntamento per tutte le informazioni potete utilizzare il sito internet www.inconsiglio.it. Io vi aspetto come sempre tra sette giorni sempre qua dentro il Consiglio. Grazie a tutti.